Distano poco più di 8.000 km Taiwan e l'Ucraina, eppure sono i principali teatri di guerra che vanno in scena nel nostro globo, purtroppo è così, influiscono anche sulla nostra economia, influiscono anche sui rapporti politici, sullo sviluppo appunto anche del nostro paese, persino della nostra regione, vedremo, purtroppo dobbiamo parlarne ancora una volta perché lo fanno i giornali quotidiani, oggi li mettono al centro ancora del racconto, anche in alcune vicende che riecheggiano rispetto agli anni 70 e 80 con guerre di spie e insomma tutto quello che ne consegue ancora oggi, vedrete se ne parlerà molto dei leaks di questi file che sono trappellati di una talpa che probabilmente al Pentagono le avrebbe passate ai russi e sono emerse delle vicende piuttosto scontanti non solo rispetto all'Ucraina stessa, ma anche rispetto al comportamento che hanno gli Stati Uniti in America con paesi che definiscono amici e questo vedremo che è piuttosto interessante come viene affrontato dai giornali, come è interessante anche la politica interna, le nomine dei grandi manager, come sono interessanti le notizie che vengono dal territorio, in particolare sempre in primo piano i costi della vita e anche energetici, poi le RSA con una raccolta firme piuttosto corposa che accende un faro anche su quelle che sono le tariffe, del resto di tariffe abbiamo parlato moltissimo negli scorsi giorni rispetto a tutti i settori, però c'è anche come diciamo sempre qui prima di tutto lo spazio per alcune buone notizie, la più importante che riguarda da vicino Prato anche a livello nazionale perché la tre giorni di richiamo a cui ci riferiamo avrà sostanzialmente la partecipazione di molte persone del territorio nazionale, ebbene appunto ci sarà una bellissima festa dello sport, dell'amicizia, dei valori, dei giovani, della musica, della cultura e sarà qui a Prato, ne parliamo oggi grazie ai nostri ospiti, lo facciamo subito dopo la sigla. Questo programma è offerto da Nigro Costruzioni, creiamo spazi, costruiamo il futuro, www.nigrocostruzioni.it Conf Commercio Pistoia e Prato, scopri i vantaggi di essere socio. Giovedì 13 aprile, bentornati prima di tutto alla segna stampa ragionata di TV Prato, qui sul 75 ogni mattina alle 7.30 e domattina anche con una piccola novità, ma non voglio svelarvi ancora nulla, parliamo dell'oggi e anche insomma dello ieri, visto che i giornali questo fanno. Che cosa dicono quelli nazionali? Parlano soprattutto dei leaks che agitano l'Europa, come vi dicevo prima, questa è l'apertura di Repubblica, tra i dossier militari USA finiti in rete è la posizione di 38 paesi sulla fornitura di armi a Kiev, quindi anche la posizione ufficiale e poi come si comportano in realtà vedremo. C'è anche l'Italia ovviamente. Caccia alla talpa del Pentagono, gli alleati di Washington minacciano conseguenze nella cooperazione di Intelligence, ovviamente insomma, vediamo che qui sia Mastro Lilli, Foschini e Tonacci ci raccontano anche di questo sgocciolamento, di questo trickle down effect, come lo dicono gli americani, insomma, dei documenti segreti rubati all'Intelligence USA che sta continuando, sapete abbiamo imparato a conoscere anche la diffusione di questi documenti, abbiamo conosciuto il caso Snowden, me ne viene in mente uno fra tanti, ma che è rimasto noto, ma anche la cooperazione che giornalisticamente aveva messo in campo Assange, Giuliano Assange, quando scoprì appunto tanti anni fa molti documenti li diffusi sulla rete, c'è sempre questo effetto come vi dicevo prima appunto sgocciolamento, vengono diffusi piano piano e questo crea ovviamente anche per l'informazione e per i paesi cambi continui di posizione. Andiamo ancora avanti, sempre sulla Repubblica, vediamo la fotonotizia centrale che ritrae, lo dico per coloro che ascoltano il podcast, l'orsa JJ4, si appunto vede la sua foto e qui è una foto che la vede in trappola nel 2020, poi è stata evidentemente liberata ed è l'orsa che ha ucciso Andrea, il ragazzo appunto Andrea Papi, il ragazzo che mentre andava a correre sarebbe stato appunto diciamo così attinto da una zampata, probabilmente da un'aggressione anche di quest'orsa, questo è quello che insomma è emerso chiaramente dalle analisi, sento il bisogno, dice Paolo Cognetti, di un discorso più ampio sullo stato della fauna selvatica in Italia e sul rapporto che abbiamo con lei, provo a mettere a disposizione quello che so per tanti anni di letture e di vita in montagna, perché lo fa Cognetti in questo interessante articolo che vi invito a leggere? Perché è un dibattito complicato che mette insieme ovviamente le esigenze delle persone che vogliono la convivenza con questi animali, con quelle di chi vuole sicurezza, quindi il dibattito ovviamente si inerpica su questo, vediamo anche la prima pagina del Corriere della Sera che mette luce su un altro aspetto in taglio alto della questione internazionale, come vi dicevo prima, cioè quella di Taiwan, ieri abbiamo imparato a conoscere anche rispetto a Prato questa vicenda, avete visto la Cina ha protestato con il sindaco Matteo Biffoni per il suo viaggio di due mesi fa, è emerso ieri in un articolo del Corriere Fiorentino, oggi la nazione di Prato riprende quella notizia e comunque qua invece si parla della guerra vera con un articolo di Guido Santevecchi, Ucraina e Taiwan, appunto 8 mila chilometri di distanza, ma scenari di guerra, come vi dicevo proprio nel prologo di questa trasmissione, in Ucraina si combatte da oltre un anno con migliaia di morti e feriti e ora spunta un video nel quale si vede un Ucraino decapitato dai russi, anche questa è una notizia di ieri che ha fatto molto discutere, altra notizia di politica interna importante, le nomine dopo le tensioni, si parla ovviamente di quelle partecipate dello Stato di cui da giorni parliamo, ma Meloni sceglie Cingolani, appunto l'ex ministro del governo Draghi, gli alleati la spuntano su Scaroni e Cattaneo, gli alleati ovviamente sono Forza Italia e la Lega che ha discusso a lungo, invece la fotonotizia del giornale di Via Solferino, Via Solferino è a Milano, non a caso, infatti l'attenzione del Corriere della Sera per Milano è una delle sue due squadre continua, insomma anche l'altra squadra milanese ha vinto ieri in Champions League, il Milan batte il Napoli anche in Champions, anche perché 1-0 è stata la vittoria di ieri e 4-0 era stata invece quella in campionato o per meglio dire 0-4 perché era venuta a Napoli se non ricordo male, ancora la Nazione, il giornale di Agnese Pini, Meloni, Media, alla fine ecco le nomine, appunto il ticket Cattaneo, Scaroni all'Enel, Eni, Poste e Leonardo secondo le attese, oggi tocca a Terna, Di Foggia è super favorita, sarebbe la prima manager a questo livello, anche la Nazione sceglie di aprire sulla questione dell'animale che ha ucciso questo ragazzo che tutti chiamano runner, a noi fa un po' ridere questa cosa, insomma era un ragazzo che andava a correre, si diceva un runner, usiamo sempre questi termini a volte con cui identifichiamo anche purtroppo in questo caso c'è anche poco da ridere perché la vicenda è veramente terribile, però insomma dice appunto la Nazione che il Taro ordinò di abbattere quell'orsa già mesi fa perché era stata protagonista di altre aggressioni, andiamo a vedere prima di andare sui giornali più strettamente toscani e locali qualche pagina che ho selezionato per voi dei giornali nazionali, Taiwan lancia l'allarme, la Cina prepara la guerra, queste sono le parole proprio dei vertici cinesi, quindi sappiamo che l'isola contesa è al centro di questa, più che contesa insomma che proclama la sua autoindipendenza, la sua indipendenza, ma la Cina non l'ha mai riconosciuto, del resto la maggior parte dei paesi non riconoscono Taiwan come ente nazionale autonomo, l'Italia compresa, quindi c'è una ovviamente anche questione molto molto cogente rispetto a tutto il dispiegamento di armi che Xi Jinping sta facendo attorno appunto a quella che lui considera la sua isola, mentre insomma sappiamo che la bandiera e lo stato d'animo delle persone che lì abitano è diversa, soldati ucraini i decapitati, un'altra notizia interessante che abbiamo deciso di approfondire, appunto i video che ricordano l'Isis, abbiamo detto tutto purtroppo Zelensky dice che questi autori dei video sono bestie, ma ci ricordiamo molto bene che anche mediaticamente quale effetto ebbero una decina di anni fa se non ricordo male i primi video diffusi dall'Isis rispetto, o da Daesh appunto rispetto a questa pratica, i file del Pentagono confermano le forze speciali NATO in Ucraina, questa è l'altra notizia che emerge dai leaks, non solo i comportamenti, ma appunto in questo articolo di Andrea Marinelli e Guido Olimpio, molto interessante, si evince anche questo, dei documenti non più segreti del Pentagono emergono, vi leggo qualche riga, numeri sulla presenza di forze speciali occidentali in Ucraina, secondo uno dei file risalenti al 23 marzo, sul campo ci sarebbero 50 britannici, 17 elettoni, 15 francesi, 14 americani e 1 olandese, lo United States Special Operations Command americano e i comandi alleati dispongono di una piscina ampia dove pescare, i SAS inglesi e i cugini marittimi SBS, Berretti Verdi, Delta Force, paramilitari della CIA, uomini del servizio di azione, appunto c'è una lunga lista di tutte queste forze speciali, la loro azione è stata spesso citata dai media nelle ricostruzioni sull'assistenza all'esercito di Chievi, in particolare per le operazioni dietro le linee, insomma avete capito che c'è un dispiegamento di forze della Nato che va ben oltre quello che veniva pubblicamente dichiarato e se molte di queste cose si possono immaginare, appunto venirle a scoprire dai leaks in questo modo è sicuramente diverso. Andiamo avanti, nomine Braccio di Ferro, abbiamo già detto, è intesa, Meloni un lavoro di squadra, qua rivediamo i volti di tutti i nominati appunto nelle partecipate, per questo vi invito a leggere appunto i giornali, in questo caso abbiamo pagina 8 del Corriere della Sera e in ultimo appunto la questione di JJ4, l'orsa che ha ucciso appunto questo ragazzo che è al centro di questa vicenda, appunto il tardi se no alla cattura, il padre della vittima ai funerali dice di provare rabbia, vorrei insomma ben vedere, è il minimo, è il minimo anche la madre ha scritto che probabilmente denuncerà anche le autorità competenti, anche rispetto al governo di quella regione, di quella provincia speciale perché ovviamente dice si poteva salvare mio figlio, c'erano tutti i crismi per capire da prima che dovevano essere insomma allontanati o abbattuti o gestiti diversamente gli orsi, dice la donna e va avanti su questo anche la polemica di cui magari torneremo a parlare nei prossimi giorni. Repubblica Firenze, il governo vuole il CPR appunto Toscano, ipotesi Coltano e Pescia, questo è un articolo che firmano insieme Antonino Palumbo ed Ernesto Ferrara, l'ex struttura militare di proprietà demaniale a Coltano di cui moltissimo si è parlato nei mesi scorsi se ricorderete per una nuova base, oppure un'area in mano al demanio massa, molto meno probabile l'area fiorentina, sono le tre aree di individuazione appunto per il centro di detenzione di rimpatri che dovrebbe essere realizzato in Toscana per i migranti che delinquono, questa è l'ipotesi che fa Repubblica Firenze, andiamo a vedere anche che cosa scrive il Corriere Fiorentino, cioè il folle business dei parcheggi, un articolo anzi un approfondimento di Giulio Gori su appunto quello che è oramai una pratica comune a molte città ma che a Firenze raggiunge dei livelli incredibili, come sapete vi diciamo ogni giorno dei problemi di Firenze, in strada sempre meno posti, sempre più sosta selvaggia, l'agente immobiliare dice cifre pazzesche perché sono merce rara, sappiamo benissimo, insomma in centro pensate un box può essere venduto a 200 mila Euro, lo ripeto 200 mila Euro per un box auto, quindi alle stelle come sappiamo, come ci dice il giornale appunto diretto da De Ponti anche il prezzo degli affitti da oramai da mesi, andiamo ancora avanti, stringiamoci sui giornali più strettamente locali, l'edizione prattese, fiorentile ed empolese del Tirreno, striscione, no gender al liceo, Prato, il Livi Brunelleschi ha sostenuto la scelta della Carriera Alias, appunto c'è questa protesta, il reale ce la racconta, la Carriera Alias appunto fa riferimento al fatto che i ragazzi, gli allievi possano cambiare nome e quindi insomma anche alludere ad altri generi e in linea reale ci racconta come appunto ci sia una protesta su questo stadio, verso il maxi sconto si parla di Firenze per la concessione annuale, insomma ancora al centro delle polemiche e vediamo anche la Gazzetta dello Sport che celebra il Lampo, Milan ovviamente 1-0, gol di Benasser, vi abbiamo già detto, per quanto riguarda invece più strettamente le pagine che hanno a che fare con la cronaca locale, partiamo dalla Nazione di Prato, RSA più care, rivolta con mille firme, adesso vedremo l'approfondimento che fa il giornale la cui edizione pretese diretta da Leonardo Biagiotti, appunto la battaglia per l'acqua depurata è uno dei due approfondimenti principali del primo piano e si parla ovviamente di un tesoro da 10 milioni di metri cubi, il Presidente di Gida Alessandro Broggi, lo vedete che è stato anche il nostro ospite recentemente, appunto ha avuto ieri anche delle interlocuzioni importanti, chi ha il panno non ha i denti dice questo articolo, si potrebbe riassumere con un vecchio adagio l'impasse che si è creato attorno al riutilizzo delle acque depurate, oltre 10 milioni di metri cubi annui, scusate, messi a disposizione da Gida, sapete che è il consorzio per le acque refluo che vengono appunto raccolte, per tutti gli scopi oltre a quello industriale, un vero tesoro in tempi di emergenza idrica, come tutti sapete, tra poco ne parleremo molto di più, vedrete quando questa pioggia lina lieve che ci accompagna in questi giorni smetterà, torneremo a parlare quotidianamente di siccità e allora questo sarà uno degli argomenti principali, ebbene cosa succede? Siamo sempre alle solite, la burocrazia, i cavigli, la legge, le normative fanno acqua da tutte le parti, scherza la nazione alludendo al caso specifico, impediscono a Prato di mettere sul mercato una risorsa tanto preziosa quanto utile, insomma Prato è un caso in Italia in questo e non a caso si è mosso anche Giovanni Donzelli per esempio del centro-destra tra loro, ma anche ovviamente Marco Furfaro del centro-sinistra ed è veramente un caso incredibile che entrambi i numeri due dei partiti più importanti italiani, perché questi sono Giovanni Donzelli e ovviamente Marco Furfaro, anche se non hanno un'indicazione precisa perché Furfaro non è stato eletto vice segretario di Schlein, ma ha le deleghe più importanti, quella dell'iniziativa politica. Donzelli non è stato nominato, se non appunto presidente del partito, comunque capo della sua organizzazione, però tutti sappiamo che entrambi i numeri due dei principali partiti sono pratesi, comunque vivono in qualche modo all'ombra di Prato, ci hanno vissuto per molto come Donzelli che adesso sta stabilmente a Roma insomma con la sua famiglia e mentre insomma Marco Furfaro ci viene spesso perché anche il suo collegio di elezioni in qualche modo è nato a Dalliana e anche lui adesso ovviamente sta a Roma perché fare i parlamentari comporta anche questo. Andiamo ancora avanti sulla nazione, le ruspe nel Bisenza, gli operai al lavoro per argini più sicuri e un fiume da vivere, sono in dirittura d'arrivo gli interventi programmati al Ponte Datini e in corso quelli sul torrente Iolo per fare il punto appunto sui lavori pubblici. Qui il titolo principale della nazione, RSA, mille firme contro il carroretto e mobilitazione per aiutare le famiglie, un articolo che potete leggere in edizione pratese a pagina 4, firmato da Sara Bessi che vi racconta che cosa sta succedendo in quel mondo. Muore durante la partita di calcetto, processo, corsa contro il tempo, si parla della morte di Lorenzo Betti stroncato da un malore a 41 anni, sono passati 7 anni da quella vicenda e ovviamente si cerca di far luce anche prima che tutto vada in prescrizione. Ancora avanti con la nazione Biffoni a Taiwan, la Cina protesta, il caso del viaggio voluto da lui, ieri l'abbiamo già letto, ma vi facciamo vedere che oggi la nazione riprende la notizia e ne parla ovviamente di questa querelle. ancora avanti le ultime due pagine della nazione e poi si passa ovviamente al Tirreno, per concludere Wine Festival in alto i calici, 4 giorni di degustazioni, il vino protagonista al Garibaldi, insomma la Sara Garibaldi in centro storico ovviamente. Ancora sul Tirreno come promesso edizione pratese, anzi prima dell'edizione pratese voglio farvi vedere una notizia velocemente che riguarda Empoli, cioè comunque il territorio a noi vicino perché torna l'ombra, gasificatore, siccome abbiamo parlato con Nicola Ciolini, presidente di Alia nei giorni scorsi che per primo qui ha detto che c'era questa possibilità, ebbene ieri la sindaca, in questo articolo di Valentina Tisi lo leggiamo sul Tirreno, la sindaca Brenda Barnini ha detto che l'ipotesi è per lei esclusa, quindi vedremo poi magari torneremo su questa vicenda. Infine come vi dicevo, questione pratese rispetto all'approfondimento del Tirreno, la villa che nessuno vuole, la dimora filicaia, ex casa di riposo, abbandonata da oltre 20 anni, cadi a pezzi, l'ASL ha provato a venderla, ma ci racconta Elena Andreini, nessuno si presenta in questo articolo che apre l'edizione pratese del Tirreno. Ancora avanti con i volti della città, con palandri, pochi politici, molta società civile, si parla ovviamente delle elezioni che ci saranno tra pochi giorni a Poggio a Caiano, anche su questo abbiamo una sorpresa, non è escluso che qui prima di tutto, come ci hanno promesso, i due contendenti non vengano per l'appunto a sfidarsi e quindi magari nelle passime ore vi diciamo che cosa succede. Per concludere la nostra rassegna stampa, vi diciamo anche che la strisciona no gender, raccontato dai linei reali, Maria Lardara, è la notizia che trovavamo prima anche sulla pagina regionale e anche che ci sono questioni che riguardano un altro progetto, la scuola dell'infanzia ha l'indirizzo musicale, visto che oggi parleremo di ragazzi, specialmente di ragazzi che fanno sport, di ragazzi che parteciperanno a una grande festa che dura più o meno tutto il weekend, dobbiamo parlarne perché è anche interessante capire da questo punto di vista che cosa offre Prato anche quando non lo vediamo, anche quando ci sembra che alcune cose siano nascoste a quello che è il mainstream, ebbene lo facciamo subito dopo la pubblicità. C'era una volta il monopolio dell'energia, poi è arrivato il mercato libero, una selva di offerte ricca di insidie, dove non è facile districarsi, ma oggi con Multienergia hai la garanzia di avere tariffe sempre convenienti con la massima trasparenza. Vai su multienergia.com, Multienergia. La trasparenza è la nostra forza. Stanchi di cercare un parcheggio per il vostro shopping? Siete in ritardo per la cena in centro con gli amici? Niente paura! Parcheggiare al Serraglio è come essere già in centro. Parcheggio del Serraglio. 400 posti al coperto. Moderno e sicuro. Per auto, moto e bici. Tariffa giornaliera a 6 euro. Tariffa notturna a 1 euro. Aperto 24 ore. Parcheggio al Serraglio. Il tuo parcheggio in centro. Era un colpo perfetto. Avevo curato ogni dettaglio, eppure sono qui. Mi definivano abile, scaltro, infallibile. E anche se non ce l'ho fatta, ci riproverò. Potete stare tranquilli voi, comprato poi. Non è un caso che siano professionisti della sicurezza. Prato Allarme. Siamo da 30 anni al vostro servizio. Presenti su tutto il territorio. E' reperibili 24 ore su 24. I nostri impianti sono tutti certificati. Prato Allarme. Sicuro. E' meglio. Siamo a Prato. In via Curtatone 16. Telefono 0574 25965. Ebbene, come vi avevo promesso, è giovedì, quindi parliamo di quello che accade nei prossimi giorni. Cerchiamo di farlo sempre più prima di tutto. Voglio ringraziare anche tutto il compartimento, non solo tecnico, che qui è rappresentato in questa trasmissione oggi da noi i miei esteri romani in studio e dal registrare la Totinti, che rendono sempre possibile tutto questo. Ma in questo caso mi è gradita l'occasione per ringraziare anche il compartimento dello sport di TV Prato, che insomma mi permette anche di avere spesso delle intrusioni nel loro mondo, insomma. Penso agli ottimi Masi e Manzo che sempre portano avanti questa bandiera qui in questa televisione. Oggi faccio un'incursione nello sport, ma non solo. Come vedrete, si parla soprattutto di società, si parla soprattutto di rapporti, si parla di tante cose e lo facciamo tramite una società molto conosciuta a Prato e fuori da Prato, che è il Gispi Rugby. Sono felicissimo di avere con noi ospite, colui che si occupa della comunicazione, il responsabile di comunicazione Federico Guffoni. Grazie di essere con noi. Buongiorno, grazie a voi dell'inviso. Buongiorno. Perché Guffoni è con noi e perché tra poco introduciamo anche, anzi facciamolo subito via, introduciamo il direttore tecnico del Gispi, Elia Agostini. Grazie di essere collegato, buongiorno. Buongiorno. Perché siete qua con me? Perché lo faccio vedere intanto. Questo è il manifesto del trentesimo torneo Denti e del sesto torneo Reali e come vedete tutti quanti si parla di domenica 16 aprile del 2023, il giorno del torneo, ma non solo torneo, non solo rugby, perché non solo lo stadio Cresone di Ioli e gli impianti sportivi di Cogliano saranno protagonisti, ma addirittura tutto il resto della città. Per questo ho deciso e scelto di parlarne con Federico Guffoni e appunti di Agostini. Partiamo dal nostro ospite in studio che nella vita di mestiere fa il consulente di marketing, ma che ha una passione da sempre insomma per il rugby. Che cosa succederà? Sarà anche un torneo di rugby. Quest'anno abbiamo un'occasione importante per raccontare questo bellissimo sport alla città perché è appunto il trentesimo anno del torneo Denti, la stessa edizione del trofeo Reali e sono i 65 anni di rugby a Prato. Quindi il rugby a Prato si gioca dal 1958 e quest'anno abbiamo l'opportunità anche di trasmettere la bellezza di questo sport con altri strumenti. Quindi abbiamo un ricco cartello di eventi che iniziano domani sera, quindi domani sera appuntamento presso la Club House del Gisby Rugby Prato che è a Cogliano, via di Cogliano, dove si farà una chiacchierata con uno scrittore, Marco Pastonesi, scrittore appassionato di sport, penna ufficiale del ciclismo per la Gazzetta e grande appassionato anche di rugby che nel 2022, l'anno scorso, ha scritto Il Leone Corraziere, un libro sul rugby che narra di queste vicende che si intrecciano tra un gallese e un regbista italiano e lo faremo nella convivialità. Quindi faremo questo racconto di queste storie di rugby nella convivialità ed è quello di domani sera un evento organizzato insieme anche al Panathlon e al Ciar che è il club italiano amato di rugby in occasione appunto dei 65 anni di rugby a Prato e ci introduce un po' verso il weekend del torneo o denti reali. Poi ci racconti un po' come è nata questa cosa a Prato e al Rego, però finisci di dirci pure il programma. Sabato e domenica che succede? Certo, sabato abbiamo una sfilata, tempo permettendo, abbiamo una sfilata in centro storico. Appunto ci siamo dati appuntamento alle 15.30 con tutti i ragazzi della società, gli educatori, genitori, parenti, amici, chi vuole aggregarsi, per partire da Piazza del Mercato Nuovo, passando poi per Piazza del Duomo, Piazza del Comune, San Francesco, arrivare in Piazza delle Carceri verso le 17 e congiungerci poi con gli organizzatori della Maratonina. e in questo devo dire che ho avuto un... è stata veramente una prova di condivisione importante. Con la città, bellissima. Anche quando gli sport e gli intenti si uniscono è molto bello, no? Insomma abbiamo avuto anche Vezio Trifoni ospite al programma di Marco Manzo, lui è uno dei protagonisti di questa avventura. Proprio con Vezio che appunto appena ci siamo sentiti abbiamo detto Vezio, noi vorremmo fare la sfilata, sappiamo che c'è il Village della Maratonina, chi ne pensi cosa potremmo fare? Ma certo, lui è stato super disponibile in questo e quindi è veramente stata una bella dimostrazione appunto anche di condivisione dei valori. E domenica che succede? E domenica si gioca, domenica si gioca davvero. Finalmente si gioca. In tutti e due gli impianti? In tutti e due gli impianti si gioca sia a Cuiano la mattina e in contemporanea anche a Iolo, allo stadio Cersoni, quello dove gioca la Serie A, perché ha visto i cavalieri, e per poi passare nel pomeriggio tutte le squadre si trasferiranno sugli impianti di Iolo dove si giocheranno le finali. E nella pausa pranzo da mezzogiorno alle due ci sarà anche il coinvolgimento di una scuola di rock, la School Rock di Prato, che farà un'esibizione con i suoi ragazzi proprio allo stadio Cersoni di Iolo. Insomma avete capito, musica, giovani, tra l'altro questo è un torneo che riguarda i ragazzi di Schiavano, se non ho capito male, dai 6 ai 12 anni. Dai 6 agli 11. Dai 6 agli 11, esattamente, fino a, come c'è scritto qua, under 7, 8, 9, 10, 11 effettivamente, e quindi i bambini, le loro famiglie, diciamola anche, poi adesso coinvolgiamo subito anche i guastini, perché insomma ci sembra interessante su questo capire un po' di più, però vengono squadre da tutta Italia. Vengono squadre da tutta Italia, sì esattamente, da tutta Italia, vengono squadre, quest'anno abbiamo circa 700 atleti ed atleti, abbiamo 56 squadre da 16 società, da paese, che è un paese, paese è un paese in provincia di Teviso, a Roma. Quindi è una partecipazione molto ampia. È una partecipazione ampia. Ci sono tantissime cose che voglio approfondire, tante di queste sono scritte in quel giornalino, di cui tra poco parleremo, però voglio coinvolgere questo punto, Guastini. Senta, direttore tecnico, le chiedo subito, anche se mi fa un po' specie, so che siete tutte e due del 1990, condividete insomma con Federico Guffoni questa appartenenza, siete molto giovani, ma già molto impegnati. Ecco, le voglio chiedere, ma è cambiato qualcosa nella percezione anche delle persone, da quando voi facevate rugby a oggi, quanto è importante per lo sviluppo dei bambini giocare a un gioco come il rugby? Sicuramente l'attività sportiva porta nei grossi benefici per la salute fisica e mentale. Previene, sicuramente, malattie, 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 malattie. E soprattutto, in quanto ci riguarda, l'attività del rugby è un'attività che sviluppa fortemente tutte quelle abilità sociali, quindi attraverso il regolamento e le dinamiche che si svolgono in campo, i bambini sono costretti a collaborare e a dare gli altri, a lavorare in un po' di e quindi a sviluppare lo spirito di salute. Senta, Guastini, le volevo chiedere una cosa, scusi se l'interrompo, ma secondo lei qual è la differenza dello sviluppo di questi bambini nel rugby rispetto a molti altri sport? Perché il rugby ha qualcosa in più su questo? Il rugby noi lo vediamo come una palestra di vita, perché appunto ci sono le dinamiche di questo sport che ti portano a avere delle collaborazioni in campo, che poi puoi sviluppare delle abilità, delle schizze, che poi puoi sfruttare anche nella vita di tutti i giorni. Infatti la missione di Gispi, che è quella di 40 anni fa, perché nel 2024 noi avremo un anniversario importante, che poi appunto nasce nel 1984 con l'obiettivo di otterrare la felicità di ragazzi che desiderano giocare al regno in grado. Questa missione in mille anni è maturata, si è sviluppata, è riuscita a essere raffinata ed è sempre quella di dare ai bambini e alle bambine che frequentano i campi, che frequentano il nostro club, gli strumenti che li permettono di competere nella vita come fanno nello sport e nel campo del regno. Infatti tra poco le chiedo che cosa è diventato il Gispi, però insomma non voglio svelare tutto, voglio partire con Federico e invece Guffoni sul versante che dicevamo, adesso parliamo subito di quel giornalino, però prima mi dice Guffoni, insomma innanzitutto come fa a coniugare, poi sono molto curioso, magari ne parliamo fra poco della sua attività di marketing, di consulenza di marketing con questa passione, che cosa hanno in comune, questo mi interessa. Però prima mi dica come nasce 65 anni fa brevemente il regno a Prato, visto che poi parleremo con Guastini magari del quarantennale del Gispi. Sì perché durante l'avvicinamento a questo torneo noi tradizionalmente creiamo un giornalino legato al torneo e quest'anno appunto in occasione dei 65 anni di regno a Prato abbiamo dedicato un articolo interamente a questo tema, quindi a come è nato, a come sta adesso, come si è evoluto poi negli anni, a quello ci siamo immaginati anche un po' quello che sarà nel tempo, nei prossimi 65 anni il regno a Prato. Il regno a Prato nasce nel 1958 da Giorgio Ravasio, detto Gino, che invogliato e dotto un po' dai suoi compagni di squadra, lui giocava nel Cus Firenze, crea la prima squadra pratese che erano i Sorci Verdi e questa memoria storica è possibile grazie a Franco Cenobi che è presidente del Ciar e storico presidente del Regbi Prato che in una bellissima intervista mi ha raccontato un po' quelli che erano gli albori, cosa voleva dire giocare al Regbi 65 anni fa, che non è come giocare al Regbi oggi ovviamente, 65 anni fa... Vediamo intanto, esatto, vi sto mostrando uno di questi articoli, interviste che ha fatto interamente, insomma, Gufoni, questa cosa mi ha molto stupito che lei abbia fatto tutto il giornalino, insomma... Sì, ma ecco, io ho fatto tutto il giornalino nel senso che mi sono, come dire, dal punto di vista pratico e operativo, lo ho, come dire, ho girato e mi sono informato e mi sono documentato. La bellezza, secondo me, di questo giornalino sono proprio i contenuti delle persone, perché secondo me questo giornalino trasmette delle emozioni grazie alle persone che le hanno trasmesse con le loro parole e con le loro foto. E che le hanno anche vissute in molti casi. Perché le hanno vissute? E questo è il punto, ha ragione. Franco Cenobi mi raccontava che lui quando giocava agli albori dei Sorci Verdi, giocava il sabato con le giovanile e poi la domenica andava a giocare in prima squadra perché erano pochi. La squadra era corta e quindi doveva giocare sia con le giovanili che con la prima squadra. E insomma, questo è uno dei racconti di Franco che è un po' la memoria del rugby a Prato. Poi c'è una bella intervista anche a Pasquale Petrella, storico presidente del Gispireg. Presidente di Gispireg e anche collega, insomma, conosciamo. Collega. Certo, certo. No, no, assolutamente. E vi invitiamo anzi a fare un salto nella storia di questa città e anche di come si è evoluto lo sport del rugby in questa città con questo giornale. Senta Aguastini, la richiamo in causa. Le volevo chiedere, appunto, lei diceva del quarantennale, dall'85 eccetera, ma qual è la proposta sportiva, visto che lei è direttore tecnico, che fa oggi? Come si è evoluta la proposta sportiva proprio del Gispireg? Che cosa proponete dal punto di vista sportivo? Allora, si può iniziare ad andare a rugby, la nostra proposta parte dai kids, sono bambine e bambine nati nel 2020 e arriva, come dicevate prima, ai bambini e le bambine nati nel 2008, poi Gispireg ha anche una proposta per i senior, ha due squadre, una femminile e una maschile, che poi propone anche il rugby d'acce, che è un rugby che non contempla il contatto e che quindi è ideale per chi non ha un'esperienza pregressa in questa disciplina che magari vuole provare a giocare anche a un'età da più, da più adulta. Durante gli anni, la vita, c'è una ripeto che è sempre stata quella delle bambine. Per noi, come per altre società, che praticano sport e squadra, periodo del Covid, è stato un periodo molto intenso e ci ha portato a fare delle riflessioni, chiaramente per, e ci ha portato a fare anche dei cambiamenti all'interno della società. Noi quest'anno siamo ripartiti molto bene, abbiamo incrementato la nostra proposta della scuola di scienze monorie, abbiamo incrementato il nostro percorso di formazione interna, che chiaramente va in sinergia con quello che è la proposta della Federazione Italiana Rebbi, e ci siamo già da qualche anno, stanno andando a rinforzare la nostra collaborazione con due psicologhe dello sport che ci aiutano. Questo è davvero un aspetto molto interessante. Senta, Guastini, è stato veramente chiarissimo, insomma, anzi, la ringraziamo da subito, però le volevo fare un'ultima domanda, gliela lancio un po' così. Lei sicuramente era bambino quando il rugby, diciamo così, brillava a Prato, anche a livello nazionale e internazionale. Secondo lei è possibile in futuro avere una stagione di questo tipo, visto che lei si occupa anche della proposta sportiva, o dipende solo dagli investimenti, insomma, dei privati? Cioè è possibile che in futuro il rugby torni in auge anche dal punto di vista delle competizioni internazionali a Prato, oppure c'è ancora da aspettare molto. Un parere tecnico volevo. Allora, le competizioni, grazie. Siamo tu me, allora, in un camparato, c'è una grande cultura di questo sport, e sono nati tanti, diciamo, a voi, non lo sa, o l'omagna della nazionale, o me, e lo ha fuori, che è un po' italiano di me e Federico, che stiamo insieme, è stato l'omagna della nazionale. A Prato abbiamo già avuto degli eventi internazionali, a me, mi ricordo Italia e Irlanda, qualche anno fa, dove l'Italia ha mancato la vittoria per poco e si è svolta a Yolo. Io penso che Prato si fa una scena interessante e che possa ospitare degli eventi nazionali a breve tempo. Va bene, va bene, la ringrazio tantissimo, grazie di essere stato con noi e di averci anche chiarito con questi aspetti. In bocca al lupo, non solo per, insomma, questa festa di tre giorni, ma anche in bocca al lupo per la vostra missione tecnica, che ci ha spiegato anche che è una missione sociale, grazie davvero, insomma, di essere stato con noi. E ringraziamo, appunto, il... Grazie. Bene, ringraziamo, parteciperemo, ovviamente, a questa festa, anche personalmente, magari con Guestini ci vediamo da quelle parti, come ci vediamo da quelle parti con Federico Gokuponi, perché, insomma, questa vuole essere una festa della città, giusto? Esattamente, esattamente. È una festa per la comunità, una festa per la città, è una festa che si apre al pubblico pratese, anche perché dal punto di vista reggibistico il torneo denti reali è un punto di riferimento a livello nazionale e anche internazionale. Diciamolo, denti reali erano due ex tecnici, ovviamente, no? Sì, sì, esattamente, sono due figure colone portanti che, per omaggiare la loro memoria, diciamo, viene dedicato loro il torneo. Appunto, questa tipologia di torneo viene apprezzata a livello reggibistico in Italia, ma anche all'estero e, appunto, queste iniziative hanno per noi anche l'obiettivo di presentare la bellezza di questo sport, le emozioni che si possono vivere, i valori di questo sport al territorio pratese. Quindi, come dire, in qualche modo vogliamo abbracciare la nostra città che ci ha fatto crescere, ci ha consentito di ottenere anche delle soddisfazioni sportive e sociali e umane per apprezzare al massimo questo sport. Quindi ripetiamo, venerdì sera, incontro... Venerdì sera, incontro con lo scrittore Marco Pastonese, in Clubhouse a Cogliano. Sabato... Sabato la sfilata in centro, che si rilisce con la maratonina. Con la maratonina in centro. Poi ci sarà anche un'esibizione dei musici sbandiratori, al termine, quindi dalle 17 alle 18, di Montemurlo, esattamente. Quindi sarà anche, dal punto di vista scenografico, un'emozione. Sarà un'emozione sicuramente. Ecco, una partecipazione del territorio, interessante. Eh sì, sì. E poi? Senza il supporto sicuramente di... Intanto partiamo da a monte, dei volontari. Dei volontari, delle famiglie, degli amici, dei genitori, nonni. Tutti coloro che sono a parte attiva, senza i quali non sarebbe stato possibile realizzare nessuna di queste iniziative. Della comunità, delle aziende che sponsorizzano l'evento, delle istituzioni pubbliche. Insomma, è come il rugby. Una cooperazione. È una cooperazione. Da soli. Certo. Non ci si fa. E infatti le stavo per chiedere questo. Poi al di là della retorica che sempre ci si porta dietro quando si dice questa cosa. Ah, ma il rugby, sì, è mutuo aiuto. Certo. Però poi, praticamente, lo sa perché glielo chiedo? Perché lei fa un mestiere che viene visto molto, il consulente del marketing. Diciamo, lei lo fa anche per le aziende. Non è che in questo caso si occupa del Gispi anche perché è una passione che la coinvolge da sempre, ho capito, no? Però, che cosa si porta dietro del rugby dentro il suo lavoro? Questa è una domanda difficile, mi scusi. Ma il rugby, come diceva anche Elia, è una palestra di vita. Quindi il rugby ti porta costantemente ad avere, a metterti, come dire, in gioco da tanti punti di vista e ad apprezzare il gioco di squadra, il valore di giocare in una squadra. Certo. Così come lo è, questa, come dire, così come nella vita lavorativa, professionale, mi sono portato dentro questi valori perché, ovviamente, come diceva uno scrittore storico inglese, nessun uomo è un'isola, così anche nella vita reale, nessun uomo è un'isola, nessuno riesce a fare niente di valevole da solo. E quindi, come dire, la cooperazione secondo lei è la parte principale per realizzare i progetti? Sì, la cooperazione, sì, è sempre un valore aggiunto. Riuscire a coinvolgere quanti più professionisti, perché poi i progetti che porto avanti solitamente abbracciano sfere aziendali ben distinte, quindi quanto più si riesce a lavorare in squadra, dandosi anche una mano a vicenda, un po' come con i valori del rugby, quanto più il risultato diventa di qualità, diventa di valevole. E' interessante, ma come si coniuga questo con un mondo che è sempre più individualista? Si riesce, insomma, come dire, a portare avanti? Esatto, la tendenza è quella, si cerca sempre più di dare, come dire, risalto al singolo. Spesso c'è da dire dove il singolo viene visto e viene esaltato, c'è comunque dietro un team, c'è comunque una squadra dietro che è un po' anche... Questo diciamolo, è molto importante. E' importante, è importante dirlo, perché da solo anche i vari personaggi più o meno conosciuti, anche nello sport, nel mondo dello spettacolo, comunque hanno dietro un team che lavora costantemente, che... Certo, prepara questo successo operativamente, molto interessante, magari anche con una strategia, se questo lo sappiamo bene, è sempre più necessario. Senta, ma volevo chiedere anche un'altra cosa rispetto a questo, lei si è cimentato con questo giornale e ovviamente, insomma, era la prima volta, immagino, che facesse un giornale. Era la prima volta. Se non mi stupirebbe. No, 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 era la prima volta che... È difficile fare un giornale, non l'interno. È difficilissimo. Quante parti ci sono? È il mio secondo figlio, che ho già una bambina, ho già la mia testa, una bambina vera. Questo è il mio secondo figlio, che ci ha voluto molto lavoro, molta passione, però mi ha lasciato davvero delle emozioni indescrivibili. Non riesco a descrivere, parlare con queste memorie storiche che hanno vissuto alcuni argomenti che poi sono quelli che hanno fatto anche la mia, hanno caratterizzato anche la mia di gioventù, mi ha veramente emozionato, mi ha lasciato un'emozione indescrivibile. Dice una cosa bellissima, spero che i giornalisti o i narratori o gli scrittori abbiano sempre questo sentimento, anche di compartecipazione alle cose, perché ovviamente che si raccontano, perché sono più vive, più reali. A proposito di questo, come si informa lei, Gufoni? Dove si informa? Io mi informo costantemente. Mi informo costantemente, adesso tramite tutto il mondo digitale, sui podcast, mi ascolto, sono iscritto a diversi podcast Spotify, mi guardo i video. Spero anche il nostro. Assolutamente, il vostro c'è la notifica proprio, che tutte le mattine mi arriva la notifica. Si è salvato, si è salvato. Io mi informo con prima di tutto, mi informo con prima di tutto, perché quello che succede attorno a noi, che può essere anche di varie nature, possono esserci avvenimenti che potrebbero, alla prima apparenza, non avere nulla a che vedere con l'attività magari aziendale che sto svolgendo, però mi può servire, può servire a me, può servire al gruppo di lavoro, per definire meglio la strategia e poi andare sull'operatività. E questo l'ho scoperto qualche anno fa con un professionista che appunto mi ha fatto scoprire questo modo di operare. Senta, le voglio chiedere questo, secondo lei, insomma, questa è una cosa che le volevo chiedere, il futuro dell'informazione sarà sempre più influenzato dall'intelligenza artificiale? Come lo vede questo? So che lei, ho visto che lei si occupa anche molto di questo, di nuovi media, di digital. Secondo lei quale sarà l'influenza? Credo che l'intelligenza artificiale stia già, allora, secondo me l'intelligenza artificiale già da qualche anno sta influenzando i modi di fruire delle informazioni. Adesso è stata un po' sdoganata per il grande pubblico con appunto questo chat GPT. Chat GPT è molto famoso. Chat GPT, eh. Oggi è sulle prime pagine di giornali, anche oggi, perché probabilmente verrà ridata la possibilità da parte dell'autority. Immagino si siano dati guatti alla privacy e GDPR. Lei già l'aveva previsto, immagino. Eh sì, assoluto, certo. È logico che è un mercato quello italiano e è logico che l'azienda che è OpenAI si metta a riparo, no, dalla... si torni compliant con la normativa GDPR. Chat GPT ha sdoganato un po' il concetto di intelligenza artificiale, di chatbot, ma ci sono realtà che mi viene in mente una società che ho conosciuto personalmente nella mia esperienza lavorativa, che adesso è anche a Prisma, qua a Prato, che realizza chatbot, si chiama Hawaii, conosco personalmente i ragazzi. E loro già anni fa, ma sei, sette anni fa, realizzavano con una tecnologia molto avanzata dei risponditori automatici che permettevano alle aziende, per esempio in e-commerce, di migliorare in rapporto con l'utente online. Certo. Come al solito le cose che succedono nel mondo sono già successe a Prato. A Prato, sì, a Prato. A Prato succede di tutto. Soprattutto succede che questo weekend, che abbiamo sforato, ma insomma oggi era importante perché abbiamo parlato di diverse cose, succede soprattutto che questo weekend c'è questo doppio torneo importante, che coinvolge i ragazzi, che coinvolge la musica, che coinvolge la cultura, già da domani sera appunto con un incontro. Esatto. E ringraziamo davvero Federico Gufoni di essere stato con noi. Grazie a voi. A spiegarcelo, anche a trasmetterci la sua passione. Grazie davvero e grazie anche ai nostri telespettatori. Vi diamo appuntamento come ogni giorno, con prima di tutto domani. Vi dicevo che domani c'è una piccola sorpresa, ma non vi voglio svelare nulla e ovviamente sempre alle 7.30 su 75, scusate, qui su TV Prato. Questo programma è stato offerto da... Conf Commercio Pistoia e Prato. Scopri i vantaggi di essere socio. Nigro Costruzioni. Creiamo spazi. Costruiamo il futuro. www.nigrocostruzioni.it Grazie. 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 Grazie.